Io non credo in nessun Dio veramente pensante che prenda nota della caduta di ogni uccello in Australia e ogni insetto in India. Un Dio che registra tutti i nostri peccati in un librone d'oro e ci giudica quando moriamo. Non voglio credere in un Dio che crei volontariamente persone cattive e poi volontariamente le spedisca ad arrostire nell'inferno che ha creato lui. Questo no, però credo che ci debba essere qualcosa. Grazie a tutti. Non ho potuto controllare le mie azioni perché sin dall'infanzia non sono mai stato capace di vedermi come un vero uomo e un completo essere umano. Mi seguivano come cani perché non riuscivo a capirlo nemmeno io. Forse a quel tempo avevo uno sguardo magnetico. sono pronto a testimoniare sui crimini che ho commesso ma per favore non tormentatemi con i dettagli perché la mia mente non li potrebbe sopportare. Quello che ho fatto mi fa tremare. Esattamente. Non vorrei commettere errori. Credo 55. 55 vittime. Saci. Russia. Un pomeriggio d'inverno. Fa freddo. La gente si affretta per tornare a casa. Un uomo però in mezzo alla gente non sembra avere fretta. Si guarda intorno. Poi qualcosa attira la sua attenzione. Anzi qualcuno. Con cautela le si avvicina. Le parla. Le chiede come sta. Come si chiama. Dove sta andando. La bambina gli dice che le scappa la pipì. Ma non vuole farla per strada. Se vuoi io abito qui vicino. Ci mettiamo pochi minuti. Puoi andare in bagno lì. La piccola non sa che sta andando nella tana del lupo. Finalmente ero libero. Mi ero liberato di tutti quei ceppi che mi costringevano. Ma quella sera. La sera che commette il suo primo omicidio. La sera che uccide la piccola aliena. Il mostro commette una leggerezza. Non spegne le luci della casa. Le immagini di Andrei Ciccatino sono entrate nella tragica galleria degli assassini più spietati. Immagini che fanno veramente paura. Perché dentro ci puoi leggere l'incontro della lucida follia con il male. Qualunque bambino vi direbbe che quello è proprio l'orco delle favole. E non si sbaglierebbe. 22 dicembre 1978. Andrei Ciccatino ha 42 anni. È sposato. Ha due figli. È un insegnante. Anzi, è uno dei dirigenti della scuola dove lavora. È un uomo perbene. Non beve. Non bestemmia. Non è violento. È migliore di tanti mari. È laureato. È un comunista convinto. Amato. Ama i bambini. Era così difficile mandare a letto i nostri bambini. Staccarli dal padre la sera. Quante ore carponi per terra per divertirli. Per fargli giocare. E quanta rabbia quando Feina, la moglie, gli confessa qualche tempo più tardi di avere abortito. hai permesso a un medico di uccidere mio figlio. La rimprovera. Pieno di dolore. È il fenomeno che viene chiamato scissione. Cioè la coscienza dell'io si scinde, come dire, in modo orizzontale. Non sa la mano destra quel che fa la mano sinistra. È un meccanismo di scissione per cui uno può essere a un modo in una certa situazione ad un altro. Quindi è possibilissimo che queste persone siano padri amorosi, addirittura cittadini in una certa area perfetti. E poi da un'altra parte, nell'ombra, nell'ombra della propria coscienza dell'io, siano delle persone catastroficamente distruttive. Quindi è possibile. E se ci pensa bene, questo succede anche nella norma. Molte persone sono a un modo in un certo contesto, ma a un altro modo in un altro contesto. Forse un pochino questo succede sempre a tutti noi, che siamo, come dice Shakespeare, tutto il mondo è una recita. Forse ognuno di noi recita la sua parte e ha un'altra parte dentro. Il vecchio dottor Jekyll e mister Hyde serve sempre per indicare questo fenomeno di scissione che, normale, accettabile e lieve nella norma delle cose, può diventare tremendo e si può avere delle persone che hanno due condizioni totalmente diverse. Questo è l'uomo che la sera del 22 dicembre 1978, con un coltello a scatto, ferisce a morte la piccola aliena, che la strangola con le sue mani, che getta il corpo della bambina nelle acque del fiume Krusiebka. Questo è l'uomo che 12 anni più tardi, il 6 novembre 1990, uccide Svetlana, una ragazza di 22 anni. Questo è l'uomo che umilia, ammazza, mutila altre 53 vittime, donne, ragazzine, bambini e bambine. Quest'uomo, per tutti, è il mostro di Rostov. Rostov sul fiume Don è una città commerciale, una città importante ai tempi tristi e con alcuni palazzi piuttosto importanti, delle famiglie ricche aristocratiche e dell'aristocrazia commerciale, perché in qualche modo era uno di questi centri in cui si incontrava l'Oriente e l'Occidente, di una certa intellettualità, ma quando uno poteva vederla negli anni 70-80, era una di queste società tristemente social-realiste, con una periferia fatta di case prefabbricate, vecchie subito, dopo essere state costruite, una città di un tono vitale estremamente basso, con un colore di grigio sporco e con un odore di cavolo e di cattiva benzina. Rostov, 1200 km da Mosca, sulla riva destra del Don, è la più grande città del sud della Russia, una provincia popolosa che riunisce più di 4 milioni e mezzo di persone, crocevia tra le pianure russe e le montagne del Caucaso, tra l'Europa e l'Asia, tra la cristianità e l'Islam. Crocevia di commerci, trappici e... Una meta sicura oggi, per chi cerca una moglie carina e senza grilli per la testa, reclamizzano le agenzie matrimoniali. Ma negli anni Ottanta Rostov era una città pericolosa. La crisi economica aveva riempito le strade di emarginati, disoccupati, persone ai margini della società, tutte vittime potenziali che rischiavano di passare inosservate per giorni, settimane, mesi. Facili prede per una mente distorta. Noi immaginiamo una città normale piena di bar e di osterie dovevano sedersi, bere qualcosa. Questo non c'era, c'erano alcuni ristoranti molto cari da prenotare con settimane di anticipo, pertanto la gente che stava per le strade non sapeva dove andare. Ecco la panchina, ecco perché la gente si siede in panchina, ecco perché la studentessa che poi magari ha un treno verso sera che la porta a 50 chilometri lontano a casa, eccetera, eccetera, ecco perché si muove in questa cerchia tra vagabondi, tra chi non ha nulla da fare, tra chi attende un treno, tra chi fa lo spuntino per terra e con molte panchine ed è così uno spettacolo umano anche molto interessante, molto anche tenero se vuole, ma anche molto drammatico. Mi seguivano come cani. Raccontaci Catilo, molti anni più tardi, a quelli che lo interrogano. Non avevo bisogno di andarli a cercare, a ogni passo che facevo erano là. Cominciai a chiedermi se questi elementi degenerati avessero il diritto di esistere. Non è difficile fare conoscenza con queste persone. Non cercano di trattenersi, distrisciano fin dentro l'anima, chiedendo denaro, cibo, vodka e offrendo sesso. Li vedevo sempre allontanarsi verso luoghi solitari. Vittime predestinate, in qualche modo. Ma perché Catilo ha ucciso così tante volte? Perché non si è fermato? Soprattutto tra i siri e Achille che uccidono per il piacere sessuale, ma quasi in tutti gli assassini seriali, sognare ad occhi aperti, fantasticare un'esperienza sadica e brutale con la vittima, è un momento fondamentale. Il comportamento che l'omicidio attiene sulla scena del crimine deriva proprio da queste fantasie che anticipano l'azione. Ma è impossibile che la vittima risponda all'aggressione in modo esattamente prevedibile. C'è sempre una differenza tra quanto immaginato e quanto sperimentato sul campo. Non ci può mai essere piena corrispondenza tra l'aspettativa e la realtà. Ecco allora il carburante per nuove e sempre più raffinate fantasie e per il desiderio di tradurle in un omicidio. All'inizio è solo il desiderio di soddisfare le sue fantasie sessuali. Per questo Andriei Cicatilo compra una baracca alla periferia di Sacci. Ci porta vagabondi, prostitute, alcolizzati che raccoglie per pochi spiccioli o in cambio di un bicchiere di vodka. In questa baracca dà sfogo, segretamente, alle sue perversioni. Si trasforma nel mostro. Lontano da Feina, da quella moglie mai amata, mai desiderata, che non riuscirà mai a rendere felice. Ma soprattutto a riparo dagli sguardi dei suoi colleghi insegnanti e degli alunni della scuola. Gli studenti non lo amano, il professor Cicatilo. Non lo stimano, non lo temono, non lo rispettano. I ragazzi lo chiamano Oca per via di uno strano modo di camminare. O peggio ancora, Finocchio, per le voci che girano su di lui. C'è chi racconta che una volta il professor Cicatilo, l'Oca, il Finocchio, si è intrufolato di notte nella camerata dei maschi, che ha molestato un allievo. Ma circolano voci anche di molesti alle studentesse. Ania, una ragazzina di 13 anni, racconta ai genitori che il professor Cicatilo, mentre la puniva con il righello. Insinuazioni sempre ignorate dagli adulti, dalla direzione scolastica. E se questo facesse parte della vita normale, cioè una certa ruvidezza della gente, quello che oggi un americano può avvertire come mobbing, anche oggi a un russo sembra ridicolo, no? Una carezza sulla testa, una questo, voi questo, un aiuto, vieni dentro che ti scaldi, questo mi sembra che facesse parte e che i ragazzi raccontavano anche queste cose, almeno per quanto mi ricordo, ai genitori così, come una buffoneria, no? E che questi andavano, magari dicevano anche al caposcuola, ma questo, insomma, non era la sensibilità viva su questo problema che mi sembra è una questione che risale a non molte decine di anni fa. Una volta durante una getta scolastica sul fiume, fa caldo, l'acqua è fresca, gli uva, una quindicenne molto carina, si allontana per fare un bagno. Cicatilo non sa resistere, la segue, vuole toccarla, diventa insistente. Si ferma soltanto quando arrivano gli altri. Le voci cominciano a circolare, insistenti, arrivano fino alle orecchie di Feina, la moglie. Ma anche lei, come tutti gli altri, le ignora, le considera false, nient'altro che dicerie, tanto che un giorno dice ad un'amica. Che vuoi? Forse voleva provare qualcuna più giovane. Le persone che stanno molto vicine a questi personaggi scissi, indubbiamente lasciano a volte perplesse, perché si dice, ma come hai potuto? Però io credo che molto spesso, o forse quasi sempre, sono sinceri. Cioè loro veramente la pensano di, però bisogna tenere conto di due cose. Da un lato la rigidità e la efficienza della scissione. A volte una persona recita l'altra parte in modo perfetto. Ma c'è anche un altro punto da tener conto, che noi siamo abituati a fidarci un po' troppo della nostra sensorialità, delle nostre percezioni. In realtà tutti noi vediamo prevalentemente quello che vogliamo vedere. Ed allora diciamo è possibile che la moglie, il figlio, la persona che è vicina a queste persone, in realtà non vedono proprio certe cose. Se le fanno sfuggire, le negano, le allontanano. Vedono solo quelle che amano vedere, cioè il marito, il padre affettuoso. Ma quelli balenii di cose sinistre che possono comparire, le cancellano. Per cui la sincerità credo che ci sia. Quello che diciamo non c'è è l'obiettività. Questo no. L'uomo che è conosciuto e sposato è un intellettuale. Al sesso ha sempre preferito la televisione o la lettura dei suoi amati giornali di regime. Le cose tra loro a letto non hanno mai funzionato. fin dalla prima notte di nozze. Ci vuole tutta la pazienza di Feina e una settimana per consumare il matrimonio. Colpa della timidezza, aveva pensato lei. Gli passerà, ma non era mai passata. Feina, gentile, non aveva mai rinunciato. Ma lui era sempre stato sfuggente. si era sempre sottratto, sempre più imbarazzato. Perché non andiamo da un terapista? Gli aveva proposto lei, dopo anni di sconfitte. Tu sei ossessionata. Pensi sempre alla stessa cosa. Una volta ogni tanto cerca di pensare a qualcos'altro. Li aveva risposto furibondo lui. Una volta per la verità la aveva accontentata ed erano andati da un sessuologo. Una sola volta però. Poi lui non aveva più voluto tornarci. Se solo ti avessi dato ascolto, Feniucca, avessi seguito i tuoi consigli e mi fossi curato. Le sussurrerà un giorno da dietro le sbarre del carcere. Ma nel frattempo Cicatilo ha trovato il modo per affrontare diversamente la sua impotenza, le sue fantasie. Un uomo diventa un assassino quando non riesce a contenere le sue pulsioni. Questo lo dobbiamo dire. Però non parliamo mai di raptus. Raptus a partire dalla fantapsicologia. Non è che io sono normale e poi un certo giorno vado fuori di testa. C'è semplicemente una consuetudine con l'aggressività, magari ben celata, ben nascosta, che un certo giorno esplode. Però non è mai un evento che scatena la violenza. È sempre un percorso che si conclude con un atto violento. Questo percorso dovrebbe essere indagato prima. Allora, non so, un marito che picchi abitualmente alla moglie può succedere che un giorno l'ammazza. Ma il problema non è quel giorno in cui l'ammazza. Il problema è che l'ha sempre picchiata e quindi questa aggressività ha costruito un sistema di relazione fondato sulla dimensione aggressiva che a un certo giorno si conclude in un gesto violento e omicida. 24 dicembre 1978. La polizia trova il corpo della piccola aliena. Sono passati due giorni dalla sua morte. La cartella della bambina è abbandonata sulla riva. Nelle vicinanze. i poliziotti indagano porta a porta. Dirigono la loro attenzione su Miesevoi-Kieri-Ulok, la strada più vicina al luogo del delitto. I loro sospetti si concentrano sul numero 26. I vicini raccontano che in quella casa la luce è stata accesa per tutta la notte, per non parlare del biavai di donne, ragazze e vagabondi degli ultimi mesi. Il proprietario della casa è il professor Andriei Cicatilo. Lo interrogano nove volte. Su di lui girano molte voci, episodi di molestie, testimonianze di colleghi e di studenti, ma l'uomo ha un alibi di ferro. È stato tutta la sera a casa, in famiglia. Racconta la moglie agli agenti. Il professore così viene cancellato dalla lista dei sospetti. Al posto suo, sei anni più tardi, sarà condannato a morte un innocente, Alexander Kravchenko. E se i poliziotti, i giudici, tutto l'apparato della giustizia non fosse mirato che al delitto politico, al dissenso, al boicottaggio della produzione, al ladrocinio, in una sfera completamente diversa, abbandonando completamente quello che riguardava, poteva riguardare la vita personale. Io credo che Polizia non avesse, allora Arostov lì intorno, non aveva gli strumenti per operare nel modo giusto. Direi un paradosso, se questo avesse detto a basso l'Unione Sovietica, sarebbe stato trovato in tre mesi, se violentava un po' di bambine, nessuno sapeva dove e come cercare. Le voci infamanti, le accuse di molestia, i ripetuti interrogatori della polizia per il caso della piccola aliena. La reputazione del professor Cicatilo è macchiata. La scuola lo costringe a rassegnare le dimissioni. È il marzo del 1981. Cicatilo inizia un nuovo lavoro, impiegato nel reparto rifornimenti di una ditta. Questo lavoro lo porta a viaggiare nel paese. Deve convincere i direttori di fabbrica ad aumentare la produzione delle forniture più richieste. A volte torna in sede con camion pieni di materiale da costruzione. È un lavoro squalificante per un laureato in lingua e letteratura russa, ma un vantaggio da libertà. La gente sapeva che poteva mettermi sotto i piedi e che non mi sarei difeso. Potevano farmi del male e umiliarmi in tutti i modi che volevano. Sentivo il bisogno irresistibile di uccidere quando non riuscivo a reagire contro chi mi tormentava. Se qualcosa andava male nella mia vita o nel lavoro, mi ritrovavo nuovamente alla stazione ferroviaria o nella foresta. E così tutto ricominciava. Quella frustrazione mi teneva sotto pressione. Bolliva dentro di me ogni ora. Alcuni di questi spostamenti duravano soltanto un giorno, altri una settimana, altri anche dieci giorni. Nessuno può controllare con certezza dove si trovi o cosa faccia. Cicatilo, malgrado la frustrazione, capisce presto una cosa. Ha trovato il suo lavoro ideale. Passavo spesso del tempo nelle stazioni ferroviarie, sui treni, sui tram e sugli autobus. Ci sono un gran numero di vagabondi, sia giovani sia vecchi. Chiedono, pretendono, prendono. Sono ubriachi sin dal mattino. Questi vagabondi trascinano minorenni nelle loro attività. Strisciano dalle stazioni in varie direzioni a bordo dei treni. In stazione e in treno ho visto spesso scene della loro vita sessuale. E mi ricordavo la mia umiliazione per non essere mai stato capace di realizzarmi completamente come maschio. Possono trascorrere anche dieci o vent'anni tra un fatto traumatico e gli omicidi. Un periodo durante il quale il killer ha rimosso il trauma e lo ha spostato al di fuori della propria consapevolezza. Una dissociazione che gli ha permesso di mantenere un sufficiente controllo della realtà e un accettabile adattamento al mondo in cui vive. Ma quando capita un fattore scatenante, un fatto che anche simbolicamente lo riporta al passato come un'umiliazione o un abbandono, tutti gli equilibri saltano minacciando di travolgere uno stato mentale precario, di annientare. Bisogna allora fronteggiare l'angoscia, il panico, la sensazione insopportabile di essere vulnerabili. Occorre agire per riprendere il controllo. Uccidere diventa un modo per dominare la paura. 1981. Sono passati tre anni dalla morte della piccola liena. Cicatilo è di nuova caccia. Incontra ad una fermata d'autobus Larisa, una ragazza di 17 anni. Lei si fa affascinare da quell'uomo più grande, così colto e dai modi gentili. Insieme si avviano lungo un sentiero che porta nel bosco. Presto i modi dell'uomo cambiano. Diventa aggressivo. La ragazza si ribella, inizia a lottare. Cicatilo ora non è più in grado di controllarsi. La colpisce alla testa, le stringe il collo, la ferisce al seno con un morso. Poi, come in preda ad un assurdo delirio, afferra gli abiti strappati della ragazza e davanti a quel corpo straziato improvviso una danza. Mi sentivo come un partigiano, come un eroe che combattiva gli invasori nazisti. C'è una famosa poesia di Oden, W. H. Oden, un grande poeta inglese, il quale ebbe l'annuncio dello scoppio della guerra mondiale. E' scritto una poesia che si intitola Settembre 1939, che dice questo, e la traduco direttamente, ma io e il pubblico sappiamo ciò che tutti, anche i bambini di scuole, sanno. Men to whom evil is done, do evil in return. Gli uomini a cui viene fatto del male, fanno del male a loro volte. Mi pare in due versi sintetizzata una grande verità, non solo a cui viene fatto del male, ma anche che si trovano in mezzo alla malvagità. La malvagità è una cattiva consigliera, è una cattiva educatrice. Ucraina, 1936. L'Unione Sovietica è sprofondata nella miseria. La collettivizzazione delle campagne, imposta dalla rivoluzione comunista, riduce i contadini alla fame. La disperazione spinge al cannibalismo. Contro i culachi, i contadini più ricchi vengono inviati i soldati dell'armata rossa. Stalin decide di fare l'industria pesante, sacrificando l'agricoltura. I poliziotti, anzi, quelli della KGB e quelli che poi non certo non sanno trattare che cosa è un pedofilo, vanno da una casa all'altra, trovano che ogni contadino ha un sacco di grano. Ma non sanno che questo grano è il semente per la stagione successiva. Pertanto nel 31 non c'è nessuna riserva di nulla e i contadini si trovano a soffrire fame. Ulak, cioè il contadino ricco, è uno che ha un cavallo e una casa in mattoni. Di questi e questi vengono deportati. Nessuna famiglia si salva dagli orrori, neanche quella di Andriei Cicatilo. Il padre cerca di adattarsi alla situazione, trova lavoro in una fattoria collettiva come bracciante. È una tregua di pochi anni. Poi le truppe della Germania nazista invaderanno l'Unione Sovietica. Andriei Cicatilo ha cinque anni quando il padre viene inviato al fronte. I partigiani ucraini organizzano una resistenza tenace, violenta. Intorno a lui sangue, morte, cadaveri. Si porterà dentro questi orrori per tutta la vita e faranno di lui un pedofilo, un sadico, un cannibale. Non dimentichiamo che questa dimensione dell'introiettare la forza dell'altro diventa anche una configurazione delle religioni. Quando noi facciamo la comunione mangiamo il corpo e il sangue di Cristo, che è una sorta di simbolica del cannibalismo. E allora sotto questo profilo il motivo sottostante a questa dimensione è l'accrescimento di forza attraverso all'acquisizione della forza del nemico. Ero pieno di disgusto, racconterà allo psichiatra il mostro di Rostov. Sognavo sempre di catturare i soldati tedeschi, di portarli nel bosco, legarli ad un albero e di torturarli. Mi sentivo come un partigiano, come un eroe che combattiva agli invasori nazisti. Non bastasse, nelle fredde serate d'inverno della sua infanzia, una madre perversa terrorizzava lui e la sorellina con racconti terribili. Uno tra tutti quello in cui il fratello Stefan veniva rapito, ucciso e poi divorato per fame durante la carestia del 1930 in Ucraina. Ancora oggi non sappiamo nemmeno se questo fratello sia mai esistito. Il nostro fratello maggiore, credo avesse sei anni, uscì di casa in cerca di qualcosa da mangiare, ma poi non tornò più a casa. Si disse che era stato ucciso e mangiato. Questo fatto ha sempre tormentato mio fratello. Nostra madre racconta più volte questa storia di Andrei, piangendo. Molti impazzirono, attaccarono altre persone, le mangiarono. Così presero mio fratello che aveva dieci anni e lo mangiarono. Mia madre me lo raccontava spesso. Mi diceva, sta dentro al cortile o acchiapperanno anche te e ti mangeranno. A scuola venivo sempre preso in giro, non sapevo difendermi. Se non avevo l'inchiostro o la penna, mi sedevo e piangevo. Un bambino timido, introverso, senza amici. I suoi compagni di classe lo ricordano così. E lui, Andrei, ai tempi della scuola li detesta, ne ha paura. È convinto che tutti vogliono fargli del male. È convinto che vogliono conoscere i suoi segreti. Non vuole che si sappia che bagna il letto. O peggio ancora, che è miope. La miopia diventa la sua ossessione. Pensa che sia colpa sua se non riesce a leggere da lontano. Perciò non lo dice a nessuno, né a casa, né agli insegnanti, né tantomeno ai compagni di classe. Non vuole essere preso in giro. Non vuole essere chiamato Oshkarik. Quattro occhi. La ragazza che comincia a dire la bugia, è chiaro che si rende schiavo di un vizio che domani potrebbe rovinarlo per davvero. Perché cosa ti spinge a dire la bugia? È sempre ho paura di un male, ho paura di un guadagno, di qualche cosa che ti preme, che va contro la verità. Andriei Cicatilo da vicino però ci vede. Così la lettura diventa il suo rifugio. Legge tutto ciò che esalta l'eroismo dei partigiani comunisti. Diventa uno studente eccellente. Poi un brillante membro del partito comunista. Ma Cicatilo, un terribile complesso. Non riesce ad avere rapporti sessuali con le ragazze. È impotente. È omosessuale. È Pinocchio, si dice in giro di lui. È una sorta di persecuzione. Comincia a crederci anche lui. Ma la rabbia che ha in corpo sta per esplodere. Certo che la sorte non è stata benevola con Cicatilo. Prima lo ha afflitto con una miopia così forte fin da piccolo da condizionargli la vita. Poi in adolescenza lo ha condannato a una serie di difficoltà sessuali. E lui allora ha iniziato a pensare che i suoi difetti non erano solo una triste casualità, il segno della sfortuna, ma l'effetto di una deliberata aggressione subita appena nato. Una maledizione cui non poteva reagire se non accumulando rabbia. Una rabbia che sarebbe esplosa. Era inevitabile. Solo questione di tempo. Seduto, abbracciato ad una ragazza. La stringe, con forza. Lei è infastidita. Cerca di liberarsi, prima gentilmente, poi sempre più affanosamente, quasi lottando. Poi finalmente lui la lascia andare. Eppure quel giorno Cicatilo impara il piacere che si prova dominando un'altra persona. Non dimenticherà mai lo sguardo terrorizzato della ragazza. È una sensazione che non lo abbandonerà più. La maggior parte di noi mette in scena nell'immaginazione situazioni che vanno dalle più innocenti alle più aggressive, dandogli un valore sostanzialmente positivo e spesso terapeutica. Nel serial killer la violenza e il sesso sono secondari ad un piacere maggiore, che è il totale controllo della vittima. È un fatto così importante che spesso la morte della vittima è una specie di incidente non desiderato. Si spiega in questo modo il racconto di chi è riuscito a sopravvivere, proprio facendo tutto quello che l'aggressore ha chiesto loro. Schiave obbedienti delle sue fantasie di controllo totale. Liena, una bambina di nove anni. Larisa, 17 anni. Chikatilo ha ucciso due volte tra il 1978 e il 1981. Giugno 1982. Il mostro di Rostov uccide ancora. Liuba, 13 anni. Poi altre sei vittime, prima della fine dell'anno. La più grande ha 19 anni, la più piccola soltanto 9. Si chiama Oleg. È un bambino. Per la prima volta il killer uccide un maschio. Il suo corpo non verrà mai ritrovato. Non ne posso più del dolore che sento e vedo. Non ne posso più della gente cattiva che si fa del male. Non ne posso più di tutte le volte che ho voluto rimediare, non ho potuto. Non ne posso più di stare al buio. Un killer che uccide senza distinzioni di oggetto è una situazione particolare che sta a sé. Io individuerei come una sindrome di Gilles de Rez, sindrome di Barba Blu, perché fu il primo. Gilles de Rez era un feudatario francese degli inizi del 400 che uccise 3000 persone, tra bambini, bambine, ragazzini, bambini piccoli, eccetera. Credo che abbia ancora il record. E dopo di allora qualche volta si riscontra questa situazione che ha due caratteristiche in questo quadro. L'assoluta aspecificità e genericità dell'oggetto sia sul piano temporale sia sul piano del genere sessuale. Sono persone che uccidono persone umane viventi. In genere la distinzione è fatta andando nel genere femminile, nell'adulto, ma non più nel bambino, dove non c'è. E non ha importanza che età hanno e di che genere siano. Il che dimostra che queste sono situazioni del tutto particolari in cui compare dal fondo una primitiva e disorganizzata aggressività, che non ha più nulla a che vedere con la sessualità che in fondo rappresenta una pulsionalità più evoluta, più specifica. Queste persone hanno la caratteristica di colpire l'oggetto senza più alcuna specificità. sono persone pericolosissime e catastrofiche. Maschi, femmine, bambine, donne. Vittime accomunate dalla morte, ma in realtà diverse nella vita. Per età, estrazione sociale, educazione familiare. Cicatilo le uccide con crudeltà, le pugnala, le mutila, le fa a pezzi. Muoiono tutte dopo un'atroce agonia. Tutte hanno terribili ferite intorno agli occhi. Il sadismo non ricava piacere dalla morte dell'altro, ma dalla sofferenza dell'altro. E sono due cose diverse. Quindi nel momento in cui la persona spegne l'oggetto desiderato, in questo modo, perverso, quando lo spegne è finito il sadismo. Il sadismo c'è nel momento in cui l'altro soffre e la sofferenza dell'altro si trasforma per un complesso interperverso in piacere suo. A volte, poi, bisogna dire che queste persone seguono dei rituali. Uno dei rituali può essere colpire le persone nello stesso punto, ferire allo stesso modo, ripetere un gesto. Il rituale è sempre rassicurante, no? Serve a prolungare l'atto senza fine, a rifare sempre lo stesso atto, no? Che rassicura la persona di un certo controllo totale dell'oggetto, di una certa onipotenza. Certo, ci sono organi che sono privilegiati, eh? Per esempio, gli occhi, no? L'aggressività violenta con l'accecamento comporta un grosso problema antico che riguarda il significato sessuale della vista. Per cui l'occhio viene a essere fortemente caricato di elementi di tipo colpevole, di tipo angoscioso, di tipo antico, e soprattutto viene caricato di significato sessuale. E quindi il controllo visivo non ha solo il significato del controllo, ma ha significato anche di tipo sessuale, con tutta la colpe. Per cui è facile che l'occhio sia un organo particolarmente colpito in questa situazione. Le autorità russe decidono di formare una squadra speciale di polizia. È l'operazione chiamata Lesopolusa, Sentiero nel Bosco. Arriva anche una speciale task force da Mosca. Fa parte di questa unità Vladimir Kazakov. È il primo ad intuire che dietro gli omicidi c'è una sola mano. La mano di un serial killer. Ma incredibilmente, quasi nessuno sa ancora di questa storia. Non se ne parla sulla stampa. Non ne danno notizie ai telegiornali. La gente a Rostov non sa che c'è un feroce assassino in circolazione. I giornali russi, i giornali sovietici non portavano la cronaca nera, non portavano nemmeno i fatti negativi per il socialismo, perché il socialismo produceva, vinceva, conquistava i piani quinquennali. Di solito l'articolo di fondo si apriva come un successo di qualche colos che ha prodotto cinque mucche in più rispetto a quanto era previsto. Pertanto le cose interessanti di politica si intravedevano tra le righe, ma certamente non la cronaca nera. La cronaca nera è una conquista del primo periodo di Gorbaciov, di questa glasnost, ma poi prima che il censore fosse completamente sparito e dalla realtà, e dalla testa di chi faceva i giornali, sono passati molti anni. Gli investigatori sono convinti che questi feroci omicidi siano l'opera di un malato di mente. Si comincia ad indagare negli istituti per malattie mentali, scattano gli arresti, arrivano le prime confessioni, estorte con la forza, poi ritrattate. Si cerca anche nelle carceri. 25.000 persone vengono schedate. È un'impresa titanica. Centinaia di migliaia di dati vengono trascritti a mano. Ma c'è un problema. Il killer continua a colpire. Ci sono già più di 20 vittime. Poi, finalmente, un indizio. 27 marzo 1984. Viene trovato il corpo di un bambino di 10 anni, Dima, ferito a morte. 54 coltellate intorno agli occhi. Non lontano dal corpo, un'impronta. L'orma di un piede piuttosto grande. 43-44 di misura. E non solo. Qualcuno ha visto il ragazzino allontanarsi con uno sconosciuto, pochi minuti prima del delitto. È una donna. Racconta alla polizia di averlo visto solo da dietro, ma è sufficiente per descriverlo. Altezza 1,90. Età tra i 50 e i 55 anni. Segni particolari, occhiali e una borsa. Ma soprattutto un dettaglio. L'uomo trascina leggermente una gamba. Inizia la caccia al cittadino X, l'inafferrabile serial killer. Lo schema con cui Cicatilo arriva ad uccidere è quello comune a molti serial killer. Una specie di ciclo studiato da uno psicologo americano che si chiama Joel Norris. La prima fase si chiama aurorale, durante la quale il killer pian piano si ritira dalla realtà. In un mondo di fantasie sempre più precise ed articolate che lo spingono all'azione. Poi viene la fase di puntamento. L'assassino è alla caccia della sua preda, su un terreno che studia con attenzione. Concentrato, determinato, si è trasformato in un predatore letale. La fase della seduzione è quella dell'approccio alla vittima, che viene appunto prima sedotta, poi ingannata e sopraffatta. In rapida successione arriva la fase della cattura, poi dell'omicidio. Quindi quella totemica. Questa rappresenta un momento particolare e importante, quando il serial killer cerca di protrarre il più a lungo possibile il piacere derivato dall'uccidere. Ecco quindi il fotografare, lo smembrare, gli atti cannibalici, impossessarsi di parti del corpo o d'oggetti della vittima come trofei. Non appena l'illusione svanisce, il piacere viene meno, e l'assassino realizza che nulla è cambiato nella sua vita, l'onnipotenza assaporata nel disporre della vita e della morte della sua vittima, lascia spazio alla profonda inadeguatezza, alla impossibilità di vincere l'abisso della propria solitudine. È la fase depressiva. Il ciclo è completo. Ma pian piano le fantasie riprendono e invadono la mente del killer, che ritorna alla caccia di una nuova vittima. Accanto agli investigatori lavorano anche alcuni psichiatri. Devono tracciare un ritratto psicologico dell'assassino. Uno di loro ci arriva molto vicino. Si chiama Aleksandr Bukanovski. Per lui, il misterioso killer è un uomo dall'apparenza normale, probabilmente sposato, con un lavoro regolare e non il maniaco folle che tutti credono. Gli stadi di sviluppo della patologia psichiatrica sono diversi da individui a individui perché la follia è sempre personalizzata. Io non sono folle come te. Per cui quando gli psichiatri dicono schizofrenia non stanno dicendo un bel niente perché il mio modo di essere schizofrenico non è il modo di un altro di essere schizofrenico. Per cui la psichiatria, finché non diventa individualizzata, non sta dicendo cose appropriate. Detto questo, gli stadi di sviluppo sono attraverso segnali molto spesso scarsamente percettibili perché assomigliano ai nostri segnali. Una depressione incomincia magari con una sorta di malumore, di demotivazione, cose che tutti quanti noi proviamo e a cui non facciamo caso. Il processo lento della formazione depressiva fa sì che si rivela quando ormai io sono immobilizzato, guardo il soffitto e non mi muovo più. Allora diciamo che siamo in una condizione folle. Ma la ascesa verso questa condizione passa attraverso gli stadi di tutte le persone normali. Tutti quanti noi abbiamo una parentela con la follia e la possiamo comprendere proprio perché la proviamo. Aleksandr Bukanovski è convinto che il killer è una persona che soffre con un trauma sessuale alle spalle. Questo lo spinge a brutalizzare le sue vittime. Con queste convinzioni azzarda una mossa a sorpresa. Prova a mettersi in contatto con l'assassino attraverso la televisione. Lo so che per lei è difficile, lo so bene e mi rendo conto che certe volte attraversa momenti di profondo sconforto e disperazione. So che a volte lei è in preda a violenti impulsi al di fuori della sua volontà e non le sue pensieri, le sue azioni. Si rivolga a me, mi cerchi, mi telefoni, trovi il modo di entrare in contatto con me. La prego. Ma si rive il killer? Si nasce oppure si diventa? Aleksandr Bukhanovsky, professore all'Università di Rostov, non ha dubbi. Lui, insieme agli investigatori della polizia russa, si è occupato delle indagini sul cicatilo e da allora non ha mai smesso di studiare serial killer. Ha esaminato il cervello e la psiche di altri 57 manie, cittadini ed assassini ed ha concluso che tutti erano nati per uccidere. Perché in loro ci sono modificazioni cerebrali evidenti, la conseguenza di fattori congeliti. Lo psichiatra russo ne ha individuate tre, presenti in tutti i soggetti che ha studiato. Una cisti, poi un appiattimento dei contoni delle circonvoluzioni cerebrali e infine lo spostamento a destra del diaframma cerebrale con l'aumento significativo del seno frontale. Tutte le zone coinvolte da queste malformazioni sono responsabili della strutturazione della personalità, dell'etica e dei desideri istintivi. Per Bukhanovsky, il serial killer è un individuo menomato moralmente e senza freni nella sua vita istintiva, ma è anche individuabile in anticipo con una semplice tac ed è un uomo che si è preso per tempo, può essere curato. 13 settembre 1984. L'ispettore Zanasovsky sta pedinando un uomo. Lo ha notato per la prima volta due settimane prima alla stazione ferroviaria. Un uomo alto con gli occhiali spessi e un abito pulito. in un'ora ha avvicinato almeno una dozzina di ragazze. Alla fine commette un passo falso. Molesta una ragazza. L'ispettore si avvicina, gli batte una mano sulla spalla, gli mostra il tesserino, poi gli perquisisce la borsa. Dentro ci sono un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri delle corde e un barattolo di vasellina. Credo di aver trovato il cittadino X, dice all'ufficiale di servizio della sua centrale, quando all'alba gli consegna il signor Cicatilo. Cicatilo viene messo in prigione dieci giorni per disturbo della quiete pubblica e la pena per chi molesta le donne. Ma è quello che serve alla polizia per eseguire i test sulla compatibilità del suo sangue con le tracce di liquido seminale trovate sulle vittime. Ma il sangue di Cicatilo è del gruppo A e il liquido seminale invece è del gruppo AB. Sangue e sperma non coincidono. Per gli investigatori è uno shock. Solo quattro anni più tardi una ricerca giapponese smonta il teorema che il sangue e lo sperma di una persona siano sempre dello stesso gruppo. È un caso rarissimo ma può succedere. In un caso su diecimila forse uno su un milione i due liquidi possono essere di gruppi differenti. Ma intanto il cittadino X viene rimesso in libertà. Ha ucciso 32 persone. Colpirà ancora. Io non credo molto a questo discorso o persona talmente cattiva che non può che essere completamente pazzo e quindi può non può sapere quel che sta... Non è vero. Non è vero. Esistono i cattivi e come se esistono? E non c'è bisogno che siano pazzi in questo senso di non avere consapevolezza delle loro azioni e del significato sociale delle proprie azioni. Infatti un altro è che è molto importante è che queste persone non hanno empatia sono disempatiche come si dice. Sanno benissimo quel che fanno sanno la sofferenza che comporta per gli altri sanno la trasgressione che comporta per la società sanno che questo non si deve fare conoscono tutto questo ma non gli importa non gli importa la sofferenza dell'altro li lascia indifferenti anzi viene a volte trasformato in proprio piacere. Uscito di prigione Cicatilo trova lavoro come impiegato in una fabbrica di locomotive nelle vicinanze di Nova Cercassa e ricomincia a viaggiare a prendere treni a frequentare le stazioni degli autobus a uccidere a Mosca ai confini della Siberia sui monti Urali vicino Rostov in Ucraina in un raggio di centinaia di chilometri ma sempre in prossimità di linea ferroviaria frequenti viaggi di affari con brevi rientri a casa è un lavoro che nessuno vuole fare ore interminabili sui treni notti passate nei sudici ostelli delle fabbriche i colleghi non lo capiscono quell'uomo così distaccato silenzioso indifferente agli insulti dei capi per loro è un mistero e poi sempre quella borsa che non lascia mai una volta approfittando di un momento di assenza di Cicatilo alcuni di loro non resistono alla tentazione la aprono ma è una delusione dentro solo una saponetta e un asciugamano nessuno di loro può immaginare che il cittadino più sadico più ricercato dell'unione sovietica è quell'uomo riservato e silenzioso 6 novembre 1990 il muro di Berlino è caduto un anno prima le cose stanno cambiando stazione di Donlashkos il sergente assegnato a piantonare quel piccolo posto di periferia a solo 20 anni verso le 4 del pomeriggio nota un uomo un tipo sulla cinquantina abito grigio cravatta occhiali e una borsa tracolla uno dei tanti cercatori di funghi della zona pensa ma ci sono due particolari che lo incuriosiscono una macchia rossa sulla guancia e un dito fasciato il sergente si avvicina all'uomo e gli chiede i documenti compagno cicatilo può andare gli dice congedandolo a fine giornata lascia il suo rapporto sulla scrivania del capo sette giorni più tardi nei paraggi trovano il corpo selvaggiamente mutilato di una ragazza il rapporto del sergente Ribakov viene tirato fuori dal cassetto 20 novembre tre poliziotti in borghese fermano cicatilo davanti a un bar la scena viene ripresa da un agente con una telecamera che era nascosta quali studi ha fatto università di rostol che facoltà facoltà di lingue a famiglia sposato con due figli data del matrimonio 1900 non me lo ricordo più ha altro da aggiungere? il resto è cronaca la notizia fa il giro del mondo i sopralluoghi con l'assassino sui luoghi del delitto le ricostruzioni minuziose delle atrocità le interviste cosa hai fatto qui? ho abbordato una donna alla fermata dell'autobus quale fermata? mostracela quella là dove l'hai portata? sulla sinistra del fiume Don il processo la disperazione dei parenti la insensata delirante scomposta allegria del mostro il mostro dentro la gabbia suoi occhi diabolici credo di essere un errore della natura mi faccio schifo il 16 febbraio del 1994 un lancio d'agenzia afferma andrei romanovici cicatino è stato giustiziato questa mattina ma la storia del mostro di Rostov è di quelle destinate a non essere dimenticate tanto presto perché qualcuno inizia a dire che forse cicatino non è morto perché il suo avvocato difensore aveva ottenuto il via libera per un processo d'appello nell'autunno del 93 e poi era uscita quella inquietante notizia sul Der Spiegel poco prima del Natale dello stesso anno c'erano due istituti di ricerca uno statunitense e uno europeo che volevano esaminare il killer vivo e per una considerevole somma di denaro leggende metropolitane nulla diffondato ma non è questo quello che conta veramente quello che conta è che Andrei Romanovici cicatino rappresenta a tal punto l'incarnazione del male il mostro che sembra difficile averlo catturato e sconfitto deve essere ancora vivo magari in una di quelle celle tipo il silenzio degli innocenti e invece no non potrà aggiungere altra sofferenza a quanta ne ha già data al mondo ho già detto tutto tutto senza sosta dovunque andassi ovunque lavorassi ho seminato cadaveri ho ucciso non so più quante persone ho perso il conto ero confuso incosciente avevo tre coltelli nelle tasche della mia giubba e nella mia borsa mi gettavo su chiunque colpivo ho un carattere tranquillo un carattere femminile un carattere da idiota non facevo che piangere e svenire mi trattavano talmente male bisognava che mi vendicassi con qualcuno era una sorta di sollievo mentale di sollievo sessuale che altro volete che vi dica sono rimasto un lupo selvaggio sono diventato un selvaggio in questa società sono un mostro un errore della natura onde di rabbia e di paura circolano per le luminose e oscurate contrade della terra ossessionando le nostre vite private l'indicibile odore della morte offende la notte di settembre io e il pubblico sappiamo quel che i bambini imparano a scuola coloro a cui male è fatto male faranno in cambio grazie a tutti grazie a tutti